Ma perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero con me? Perché tu hai il mondo. Mi chiamano gladiatore. Come ho a si voltare le spalle a me? Siamo! Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome! Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle regioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Ovechio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa e allora ne vendetta in questa vita o nell'altra. Armatevi! Armatevi!